Grazie, stanno già facendo i complimenti, non c'è tanto da ridere perché in realtà ragazzi li stiamo in diretta? Siamo in diretta, siamo in diretta, allora la cosa è molto semplice, noi qua li stiamo mettendo con le spalle a mano, noi ne abbiamo fatto la mozione, l'abbiamo requisitata, sono 518 euro che possiamo dare all'anno in più a ogni pensionato minimo, i pensionati che non prendono neanche 500 euro, abbiamo tagliato tutte le pensioni d'oro, le pensioni d'argento, le pensioni di bronzo, di queste facce di bronzo e siamo riusciti a recuperare 1 miliardo e 140 mila euro che ridistruendogli su 2 milioni e 200 mila pensionati minimi sono 518 euro al anno, vuol dire una cinquantina, 45 euro al mese che loro possono utilizzare per le loro spese, per le mollette e per tutto il resto. Pensate a questa gente, Lambertodini, Amato, sono persone che guadagnano, Giuliano Amato 30 mila euro al mese come pensione, Lambertodini 40 mila euro, noi non è che gli abbiamo detto va bene, vi togliamo completamente la pensione, vediamo solo… no, noi gli togliamo 10 mila euro l'uno e 17 mila euro l'altro, penso che con 20 e 30 mila euro vivano bene comunque sia dignitosamente, al mese, stiamo parlando di 20 mila euro al mese, noi andiamo a ridurre loro le pensioni, loro comunque vivranno con 20 mila euro al mese, ma ci danno la possibilità di dare 518 euro ai pensionati minimi, quindi adesso io guardo in giro se hanno cominciato, vedete le maschere hanno cominciato a girare, abbiamo la maschera di Lambertodini, la maschera di Giuliano Amato, fai vedere la maschera, c'è una maschera qua, è brutta, è brutta. Quanto spendono, sopra c'è scritto quanto noi preleviamo dall'eluzione, dovrebbe essere ragionevole e progressiva dell'equità, quindi che si rivolgesse a tutta la platea pubblico e privato e che fosse temporanea, ossia che non fosse definitiva ma solo con un limitato tempo, un limitato numero di anni. Noi abbiamo posto come numero di anni 3 anni, la progressività l'abbiamo dovuta fare, ma vuol dire che noi partiamo da un 0,1% da chi prende la pensione minima, che vuol dire un euro, fino ad arrivare al 32%, argente come queste facce di bronzo a cui per l'appunto preleveremo 10.000, 15.000 o 20.000 euro. In questo modo qua noi abbiamo girato tutte e tre le condizioni, quindi non è anticostituzionale. Poi alla fine, io ci ho trovato, lui mi ha dato buono.